Ha interessato anche la provincia di Nuoro la vasta operazione condotta dai carabinieri che ha permesso di disarticolare un'organizzazione criminale finalizzata allo spaccio di stupefacenti e alla spendita di banconote false. I carabinieri delle compagnie di Oristano, Mogro, Tana e Torre Annunziata a conclusione dell'inchiesta denominata Melograno, coordinata dalla Procura della Repubblica di Oristano, hanno arrestato 10 persone, 7 sono finite in carcere e 3 domiciliari. Sono stati oltre 100 carabinieri impiegati, condivati da 50 mezzi ed elicotteri. L'indagine della Procura oristanese aveva preso il via dopo un controllo eseguito a Villa Urbana sul soggetto che aveva grandi disponibilità di denaro senza però avere un reddito adeguato. I militari hanno eseguito arresti a San Quirico, Simagis e Ottana. Altre due ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite in provincia di Napoli e riguardano il reatto di spendita di banconote false. I dettagli dell'operazione saranno resi noti questo pomeriggio dalla Procura di Oristano.